E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono ROGAMER TV e oggi siamo qui ragazzi su BROOSTARTS come avete letto già dal titolo ragazzi farò un video dove faremo una challenge praticamente dobbiamo scegliere i brawler ogni partita persa, ogni trofeo pure 1, 2, 3, qualsiasi trofeo perso dovremmo scegliere un brawler a occhi chiusi e io lo sceglierò iniziamo intanto con Beryl ragazzi perché prima l'ho scelto facciamo la prima partita con Beryl poi se dovremmo andare male scegliamo un altro brawler proprio come mi capita capita, ve lo dico ok ragazzi, secondo me questa challenge non pensavo proprio di farla però l'ho più da fare, perché tra poco non si potrò portare più il mese prossimo i video di Fortnite però perché sarò senza wifi però ve li porterò con i giri, anche i piccoli video ma ve li porterò e dove ragazzi shopperò salve il mondo farò un video perché già posso shopparlo sto aspettando solo che si fa lo sconto a notare lo farò e poi lo shop comunque mettiamo il volume piano perché sicuramente si sente solo il gioco e niente niente raga, qua se non muoio non so neanche io che cosa succede cerchiamo di non morire perché sinceramente non voglio cambiare brawler no, è niente raga no, niente ok, dobbiamo cambiare brawler ora lo sceglierò con gli occhi chiusi ok, ora non sto vedendo niente ok, Frank Frank vede, vai a posersi cosa ok ok, già qua c'è un Carlo che ci ammazzerà male però ragazzi non vedo l'ora di Fortnite che shopperò salve il mondo ve lo dico, è troppo bello no, sta avendo un belitto non ci credo vabbè, dai 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 prendiamo un altro brawler gg gg ok scendiamo, scendiamo aspettate allora facciamo a caso dai, perché non fa? raga utilizziamo l'audio ah ok raga, aspettate, la rifaccio perché non è troppo schifoso occhi chiusi no, vabbè raga, tic no è troppo schifoso vabbè dai non prende, vabbè ok uno, due, tre ok, dai ok, dai ok ok ragazzi ok, già abbiamo ok, già raga, siamo in sei quindi non dovrò cambiare brawler questa cosa mi dispiace, però è frutto della challenge quindi non posso perdere i trofei a parte se non ero da 10.000 anche se sono a 9.800 perché sono sceso vabbè raga, non me ne frega qui niente delle copre mi interessa ormai solo trovare spike c'è che se qua c'è quella paper è direttamente raga con due colpi e mi scioglie forse l'ho mozzata andiamo vuoi? sì, la prendi in pieno la prendi in pieno l'ho uccisa no non ci credo 76 di vita vabbè pietra 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 dai ok va bene dai niente raga, facciamo l'ultima partita andiamo come va ci vediamo un altro brawler non so vediamo che cosa faccio così andiamo oh ma anche se questo brawler non ci sono molti in questo mappa però ok no vattene, 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 vattene si però steugenio deve essere invisibile per ucciderlo ci sono troppe scegli in questa partita troppe troppe scegli vabbè dai ci può stare ho messo leon che è girato un bel po' alto quasi pietra lo stavo portando però però non ci sono riuscito ok, questo lo uccidiamo no, non lo posso prendere ecco, infatti, va a scegliere queste erano le due a bruciarle ok lui muore perfetto ho sbagliato poi a cliccare la super non so il perché l'ho cliccata provare muori, muori sii no, mi si è bancato tutto? si ragazzi l'ho vinto ok ragazzi perfetto ok ragazzi questa challenge l'abbiamo finita è stata molto bella dai un bel po' di trofe ce li siamo portati perfetto ragazzi spero che questa challenge piccola vi sia piaciuta e noi ci possiamo vedere nel prossimo video di Fortnite bella a tutti ragazzi benvenuti sul video godetevi il video bella